Dance. 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 One. One. Dance. Get up. Move up. Benvenuti nel nostro salone Dandes parpiede di non cadette. Oggi ho fatto l'appoggiatura a este. Buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per aver visto il nostro video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.